Sul cappetto 4 da Spagna Borsegna, si prepara Ferri Francesca Manolo, Speyer Acaria. Sul cappetto 4, Guidone Alpadesi, si preparano Pucci e Marlores Pissuzzi. Grazie, grazie, grazie. Buono, buono, grande! Bravissima! Brava, brava, bravissima! Brava, brava, brava! Brava, 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 brava! Grazie, grazie! Grazie! Brava! Brava! Molto bene! Grazie per la visione!